I dibattiti si svolgono là dove vanno svolti, van benissimo le lettere, van benissimo le prese di posizione, anche i dibattiti accesi perché no, non c'è paura. La celebrazione eucaristica rimane il luogo dove c'è l'unità dei fedeli attorno a Gesù Cristo e quello è un'altra dimensione. Marca profondamente la distanza tra celebrazioni eucaristiche e momenti di confronto politico e sociale il Vescovo di Treviso e lo fa a seguito della messa di ringraziamento annunciata e poi annullata dal parroco di San Zenone sul DDL Zan. Ma questo non vuol dire che la Chiesa non prenda posizione sulla questione partendo dal rispetto e dalla vicinanza con chi ha un diverso orientamento sessuale. Ci sono tantissime aperture e generosità e vorrei dire che anche quei parroci che prendono questa posizione qui, che sono vicini a delle persone che anche soffrono per queste questioni, sono chiese, sono chiese anche loro. Questo però non vuol dire che la Chiesa si schiedi con chi contesta la bocciatura della legge, anzi, in più occasioni anche Monsignor Tomasi aveva chiarito come il limite del DDL Zan è di voler dire agli altri a priori qual è la posizione giusta da difendere e qual è l'unica opinione da tutelare. Ma questo tema di confronto deve stare sicuramente fuori da ogni celebrazione spirituale. Noi siamo in questo mondo ed è giusto parlare di tutte le questioni, non ci fa paura il dibattito, la discussione e le posizioni differenti. La Chiesa deve essere accogliente per tutti, è la casa dei battezzati.